Lunedì 26 marzo l'Assemblea Distrettuale del Consorzio Sociale Pavese ha approvato il nuovo piano di zona 2012-2014. L'Assemblea si è svolta lunedì dopo il rinnovo delle cariche elettive del Consorzio avvenuto all'inizio del mese di marzo. Al piano di zona 2012-2014 hanno già aderito oltre 30 associazioni di volontariato e hanno aderito anche la provincia di Pavia e la prefettura. Assessore ai Servizi Sociali Sandro Assanelli, lunedì 26 marzo si è svolta l'Assemblea Distrettuale del Consorzio Sociale Pavese. Quali le novità? Le novità è stato che il Consorzio si è riunito e ha nominato il Presidente dell'Assemblea nella figura del signor Andrea Borghi, del professor Andrea Borghi, che è l'Assessore ai Servizi Sociali di Zinasco. Poi è stato nominato il Consiglio di Amministrazione con il Presidente, che sono io, e altri membri sono Frisone, che è l'Assessore ai Servizi Sociali di Torre d'Isola, e il dottor Carlo Cebrelli, Assessore ai Servizi Sociali di San Martino Sicomario. E come direttore del Consorzio è stata riconfermata la dottoressa Antonella Carena, che è dirigente del settore dei Servizi Sociali del Comune di Pavia. Poi è stato approvato il bilancio consultivo del 2011, e mi piace anche ricordare che il bilancio è stato approvato senza assenza di debiti fuori bilancio. Quindi è stata una rimpatriata tra le varie persone, abbiamo discusso dei problemi che ci sono stati nel 2011, e poi abbiamo appunto fatto questa elezione che sono state svolte all'unanimità. Il Consorzio Sociale Pavese è una realtà che coinvolge diversi comuni. Quanto è importante in un'ottica di rete per quanto riguarda i servizi sociali, servizi alla persona? Il Consorzio Sociale Pavese contempla 12 comuni, Pune di Pavia più altri 11 comuni, per un totale di 102.000 persone. Il Consorzio è una situazione di comuni che lavora veramente in rete con il principio della sussiderietà e nella condivisione di un coloro dei bisogni. E quindi abbiamo cercato di razionalizzare al massimo le nostre risorse, in modo che sono distribuite sul territorio, si discutono i problemi che sono comuni e non comuni a tutti, e in modo da cercare veramente in uno spirito solidale di venire incontro alle necessità dei vari comuni che partecipano a questo Consorzio. Vorrei far notare un aspetto fondamentale. Ad esempio, l'anno scorso abbiamo dovuto affrontare un problema di perdita di lavoro, di parecchie persone che non erano nel Comune di Pavia perché c'è stata una chiusura impellente, cioè improvvisa di una fabbrica. Ebbene, il Consorzio insieme ha stabilito di mettere una cifra per venire incontro alle necessità impellenti delle famiglie che si trovavano senza stipendio. Poi, grazie a Dio, la cosa si è abbastanza tranquillizzata, in quanto parecchie di queste famiglie di questi lavoratori sono stati poi assorbiti in un'altra struttura e quindi la cosa però si è ridimensionata anche come servizi sociali. Però mi piace far notare lo spirito di grande collaborazione e di rispetto dei bisogni dell'uno con l'altro.